Ci sono da tutte le parti le loggie, per esempio se lei prende il Go, il Grande Oriente d'Italia, ha 550 loggie in Italia, se prende il Palazzo Vitelleschi, che sarebbe Piazza del Gesù, è più di qualità quello, ha 510 loggie in Italia, poi c'è Piazza del Gesù, quella è ancora più piccola, le istituzioni ce ne sono 6 o 7 di istituzioni, bisogna vedere, uno crede di essere scritta la massoneria, ma quella vera, c'era un rinnovamento della loggia massonica più due, perché esisteva dal 1895, era soltanto, si era indebolita, prima per il fascismo, nonostante molti fascisti erano iscritti alla loggia massonica P2, perché allora c'era più che riservata la segreta, e poi dopo la guerra, Philips Guarrino, che era quello che ha organizzato il piano Marshall, ha riaperto anche tutte le sedi massoniche italiane che erano state chiuse, furono ricostituite, e fu ricostituito dopo la loggia massonica P2, e scelsero e chiamarono me a darmi il potere, per poterla ricostruire come ai tempi vecchi, come ai tempi di Adriano Lemmi, il capo di stato maggiore dell'esercito si nominava noi, il comandante generale dei carabinieri si nominava noi, il generale della guardia di finanza si nominava noi, il capo della squadra della marina si nominava noi, tutti i militari erano quasi tutti elementi che si suggerivano, perché il libretto matricola veniva dato, che ricevevano per la promozione ogni anno, veniva assegnato, non sapevamo da chi veniva assegnato, se aveva le caratteristiche di essere promosso lo facevamo promuovere, se non avevano le caratteristiche non veniva promosso. Ma vede, gli Stati Uniti a quell'epoca, lei deve ritornare indietro, a quell'epoca, tanti anni, avevano una grossa influenza sull'Italia, le basi, avevano le basi, perché pensavano che ci fosse una insurrezione, una insurrezione comunista in Italia, tutti la prevedevano, quindi c'erano le basi, c'erano rifornimenti, c'erano depositi di armi, eccetera, e tutti lo vedevano. E quindi quando uno andava negli Stati Uniti, o venivano negli Stati Uniti, certamente loro dovevano guardare l'Europa attraverso l'Italia. L'AP2 doveva avere i migliori in tutti i settori, perché? Perché se ci avevamo i migliori in tutti i settori, potevamo eventualmente governare bene il Paese. Quindi lo scopo dell'AP2 era questo, arrivare a governare nel Comunque... Certo, se avevamo noi degli esperti, veramente esperti, e il ministro, perché noi avevamo anche sei ministri nella nostra organizzazione, si aiutava i ministri a dargli dei dati certi per delle relazioni, e quindi in quel settore, se avevamo noi delle relazioni e dire veramente la situazione vera e propria, il governo se ne faceva uso e di conseguenza anche l'industria, se era dell'industria, andava molto bene. Vedi oggi che non c'è più una guida, l'industria è tutta... è stata... non esiste più l'industria italiana. Franco Fracassi, giornalista e scrittore con me, buongiorno Franco, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno. Allora, con Franco Fracassi abbiamo un appuntamento molto importante, che è quello della sua uscita, tra pochissimo, con Hitler 1945, un libro, un audiolibro, quindi naturalmente sottolineo anche questa cosa in maniera particolare, quindi c'è questa sorta di collaborazione che abbiamo fatto insieme con te, Franco, e con Paola Pentimella Testa, e sono davvero molto onorata di far parte di questo vostro duo, e quindi in questo caso siamo un trio per quello che riguarda l'audiolibro, ma in generale poi tu, in questo pacchetto fatto di tante cose per chi ti segue, per i tuoi lettori, naturalmente ci sono anche altre. Dicevo altre cose, nel senso che almeno di libri ce ne sono quattro, poi ci sono altri contributi, e tra questi ci sono anche tre interviste, che hai realizzato in altri tempi, quindi naturalmente non sono recentissime, fatte quelle con Licio Gelli, con delle occhiaie e con Fiore. Oggi in maniera particolare andiamo su Licio Gelli, perché ci sono delle dichiarazioni che lui ha rilasciato a te, e devo dire che tu hai avuto queste dichiarazioni anche un po', come dire, in modo particolare, vorrei che lo raccontassi, e poi andiamo proprio invece al contendere, insomma, al contenuto. Diciamo molto brutalmente l'ho imbrugliato. Ecco, vabbè. Tra l'altro non gli hai manco mai rivelato di averlo fatto. La soddisfazione è tirare un pacco a Licio Gelli, insomma, è una di quelle cose che si possono raccontare nella vita ai nipoti. La questione era questa, lui non voleva assolutamente rilasciare nessuna intervista ai giornisti italiani, era stato anche abbastanza chiaro su questo punto, e allora abbiamo girato la cosa facendo finta di essere giornalisti stranieri. Cioè, con gli stranieri sì, con gli italiani no. Io mi farei già delle domande. Nel senso che abbiamo finto di essere una troupe britannica, abbiamo appreso contatto con lui, non noi, ma un giornalista, un vero giornalista inglese, che è corrispondente in Italia, vive in Italia da tantissimo tempo, si chiama Philip Willan, e quindi, tant'è vero che nell'intervista si sente tantissimo la voce di Philip che fa le domande, perché alla fine doveva risultare una cosa inglese e non una cosa italiana. Quindi molte delle domande vengono fatte da lui. Tant'è che comunque, chiaramente, noi trasmettiamo questa intervista e ci sono questi contributi proprio dell'intervista originale a Licio Gelli. Io vorrei che tu andassi un po' a quelli che ritieni essere i punti salienti, chiaramente. Sottolineo, è l'ultima intervista da lui rilasciata in vita. Sì. E quindi ha raccontato un sacco di cose. Allora, in questo primo pezzo si sono capite alcune cose. Primo, lui dice chiaramente che la loggia massonica P2, che è la più importante loggia massonica del pianeta, perché è una loggia internazionale, è stata ricostruita, perché esisteva in realtà da lungo tempo, però era stata smantellata, è stata ricostruita per volere degli Stati Uniti d'America. Cioè, è roba americana, non è roba italiana. Quindi chi faceva parte della P2 era al soldo in qualche modo degli Stati Uniti. Magari non veniva pagato, però il cappello ce l'avevano gli Stati Uniti. Sì. Lui poi dice che la loggia massonica P2 controllava tutto. Lui ha ammesso che tutti i vertici dei servizi segreti e le forze armate e così via erano controllati da la loggia P2. Addirittura lui dice che lì nominavamo noi, cioè eravamo noi che decidevamo chi doveva essere il capo dei servizi segreti, chi il capo dei carabinieri, chi la marina, chi di quest'altra cosa, chi doveva stare a quel ministero, chi a quell'altro. Era tutta roba nostra. Noi suggerivamo le cose e non ci potevano rifiutare. Quello che dicevamo era legge. Allora, detta in questa maniera dà un altro senso a quello che è successo in Italia. Immaginiamo la storia d'Italia per tutti quanti questi anni in cui i vertici burocratici del paese, quello che si chiama lo Stato profondo, il Deep State, che non è una cosa di gente, di topi, che sono nascosti nello scantinato. Vuol dire quella parte di Stato che resta sempre lì, che non si smuove. I ministri, i politici cambiano. I direttori generi dei ministeri, i capi delle forze armate, i capi dei servizi segreti, non è che cambiano a seconda dei ministri e dei politici che si susseguono. Restano lì. Quindi sono loro che governano. E coloro che hanno governato l'Italia erano gente scelta dalla loggia massonica P2 che lavorava per gli americani. Che impressione ti ha fatto intervistare un uomo che ha attraversato periodi storici per noi determinanti? Guarda, Jelly è un personaggio strano. Jelly è un personaggio che parla in maniera strana, spesso non dice le cose direttamente, ha tutto un suo modo di ragionare. e poi è, non lo so, come tutti quanti questi personaggi che hanno fatto la storia e hai come l'impressione veramente di avere, al di là del ruolo che hai avuto negativo nella storia, ma è sempre un personaggio della storia, è un personaggio storico importante. E quando sei vicino a questi, cioè quando vedi questi personaggi, ti fa sempre impressione, perché almeno l'immagine, uno cerca sempre di immaginare, almeno io, questi personaggi nel loro contesto storico, come si muovono, gli ordini che danno, che cosa, quello che non si può vedere in un'intervista, ma si potrebbe vedere se uno fosse una sorta di mosca sul suo vestito. Sì, anche l'effetto che ti fa magari vederli come si muovono in una dimensione più privata, quindi insomma che ce l'hai davanti ti fa un effetto, che magari lo immagini in un contesto storico, forse te ne fa un altro. Sì. Anche quello. Lui all'entrata della sua villa aveva una vogliera con, mi pare fosse, un avvoltoio dentro. Ecco. E sbagliarmi. Giusto per, no? Una cosa tanto precisa, giusto per farti capire subito con chi hai a che fare. Senti, in questo nuovo invece stralcio di intervista, lui parla del sequestro Moro. In che termini? Allora, lui dice chiaramente quello che è emerso in tutti i modi dalle inchieste serie sul sequestro Moro, e cioè che le Brigate Roste erano delle comparse, erano dei comprimari di quello che è accaduto. Cioè non hanno, sostanzialmente dice, beh, bisogna fare questa cosa, facciamolo, fa loro, venite, fate quello che dovete fare, vi rendiamo famosi, insomma. Dice chiaramente che è stata la CIA a fare il sequestro, che l'ha fatto proprio praticamente, cioè sul luogo della sparatoria, sono stati loro a farlo. Tanto è vero che fa riferimento a un film, no? Il film di Martinelli, Piazza delle Cinquelune. Cioè lui, nel momento in cui dice quello è il film di riferimento, cioè guardate quel film e capite tutto quanto. Per chi ha visto Piazza delle Cinquelune, si vede chiaramente, anzi si dice, si vede in tutti i modi, che dei personaggi che non c'entravano assolutamente nulla con le Brigate Roste hanno fatto tutto. Stiamo parlando di agenti della CIA, stiamo parlando di killer dell'Andrangheta, cioè altre persone. Cioè il sequestro Moro è una sorta di riassunto di altri eventi che sono accaduti in tutta la nostra storia, dalla seconda guerra mondiale in poi, in cui ci sono dei soggetti, cioè c'è lo Stato italiano, c'è, ci sono gli Stati Uniti d'America, c'è la mafia, c'è il terrorismo, rosso e nero non ha nessuna importanza e così via. C'è questo grande miscuglio di cose che facevano, che operavano. Questo è il sequestro Moro. Ovviamente sempre a vantaggio degli Stati Uniti d'America. Moro, guardi, è stato un colpo veramente da manuale, perché lei deve pensare che sono stati colpiti in quella confusione soltanto quelli della scorta e non Moro, che era lì fra mezzo per la scorta, primo. Poi doveva essere un mese che lo preparavano e secondo me, secondo me, l'hanno portato, dopo, quando sono andati via, l'hanno portato a 100 metri, a 150 metri, l'hanno messo dentro a un garage di quelli che vanno sottoterra. Non l'hanno portato lontano, perché è dato l'allarme, quindi ognuno guardava tutto e si guardava tutti. Poi l'hanno trasportato dopo una decina di giorni in qualche altra sede. Ma vedi, lì, d'altra parte dovrebbe saperne più prodi, perché è stato lui a indicare... In base allo spiritismo... E va bene, lo spiritismo... Poi io credo sia uno spiritismo materializzato. Effettivamente c'è qualcosa di politico, perché lui era portato a fare il compromesso storico. Il compromesso storico nessuno lo voleva. Non credo a me che tutto il popolo sia comunista o democristiano. C'è anche il popolo fascista. E i servizi segreti, per esempio. Eh? E i servizi segreti, forse, non lo volevano. Certo. I gladiatori... Infatti, se lei ha veduto il film Piazza delle Cinque Lune, se lei l'ha veduto, si ricorda quell'uomo con l'impermeabile che da ultimo è sceso da quella stradina a piedi, che aveva la macchina poi sopra, è venuto giù e guardava con una certa insistenza tutta la scena che c'era stata e poi se n'è andato via, se n'è ritornato via. Quello, ecco, se uno osserva quel fatto lì, e credo pochi l'hanno osservato, è una riconduzione molto... Tant'è vero, disse a Martinelli, che venne qui a portarmi la cassetta. Lei, Dio, guarda, Dio, si è messo un po' contro i servizi segreti. Ti attenta a Dio come cammina perché può darci eventualmente che un giorno salta in aria a lei. Riprendiamo la nostra intervista con Franco Fracassi, che naturalmente ringrazio sempre per essere qui, ma, devo dire, sono comunque cose piuttosto sconcertanti, quelle alle quali assistiamo. Ora, chiaramente, ritornando un attimo al pezzo appena visto, il discorso sulle Brigate Rosse si fa piuttosto interessante perché, chiaramente, in generale, l'Italia ha sempre creduto ad una versione dei fatti, anche per quello che riguarda il sequestro e l'omicidio Moro. Che effetto ti fa quando ti trovi davanti a situazioni che probabilmente non avevi tenuto in considerazione? Rivelazioni fatte in questo modo? Allora, quando mi trovo di fronte a rivelazioni, ovviamente mi scatta una tempesta ormonale dentro di me, cioè sono contento, non so che cosa fare, cioè cerco di carpire il massimo da queste cose. Nel caso specifico, ho fatto anche un film sopra il sequestro Moro, e queste cose qui le raccontiamo, cioè io e le persone che hanno fatto il film insieme a me, raccontiamo queste cose e diciamo le inchieste serie avevano già dimostrato quanto fossero farlocche, sia l'EBR che NAR che qualsiasi altra forma di terrorismo ci sia stata in Italia. Il problema è che, come sta accadendo anche recentemente, quello che ci viene raccontato è sempre molto distante dalla realtà. E bisogna capire che invece la realtà è molto più complessa, non c'è il cattivo di turno e basta, specialmente se sei in Italia, è una cosa molto complessa. E quindi bisogna capire perché... Ma ti ho fatto questa domanda, certo, ti ho chiesto questa cosa Franco, in maniera particolare, perché spesso ci ritroviamo sempre a dibattere, anche con te l'abbiamo fatto già diverse volte, sempre delle stesse cose, cioè a dire che i cattivi non stanno tutti quanti da una parte, che i buoni non stanno tutti quanti da un'altra parte, che le cose molto spesso sono incredibilmente mescolate, a tal punto che non si sa più dove sia veramente il bene e dove sia il male. In media è una zona di eterno grigio. E sinceramente questa è una cosa che non dicevo tanto per quello che riguarda te e per tutti quanti quelli che come te hanno poi fatto inchieste, non soltanto su questo episodio specifico, questo caso specifico di Moro, ma anche in generale ci sono anche altre cose. Ma lo dico per l'uomo della strada, cioè per colui che riceve un'informazione, una comunicazione dai media, che nella maggior parte dei casi appunto non è strettamente reale. Lascia sconcertati, lascia sconcertati, anche perché a noi ci viene insegnato a essere buoni cittadini e essere buoni cittadini e anche credere al nostro governo, credere ai nostri giornali, alle televisioni, ai media, a quello che ci raccontano. E quindi lo posso immaginare, però bisogna sempre pensare che il governo non è una cosa assoluta. Il governo sono delle persone che governano esattamente come chiunque altro, no? E che hanno degli interessi, non tutti, ci sono chi ha, tutti hanno degli interessi ovviamente, che sono esseri umani, ma ci sono quelli che mettono da parte i loro interessi personali, totalmente o in prevalenza, in funzione del bene comune, ci sono quelli che invece portano avanti i propri interessi, ci sono quelli che non fanno nell'uno o nell'altro, sono succubi di interessi altrui perché non hanno la forza morale, la tempra etica o non ci hanno, semplicemente perché portano avanti in questa maniera anche i loro interessi e così via, si diventano dei galoppini per conto di qualcun altro. Il problema è che in Italia quasi tutti quelli che ci hanno governato erano dei galoppini, non tutti ma quasi. Prima di salutarci ascoltiamo un altro pezzo dell'intervista che ti ha rilasciato Licio Gelli e poi andiamo su altri punti assolutamente salienti, imperdibili. Nel Marcinkus era un uomo, per certe cose era come Berlusconi, aveva un bellissimo appartamento a Roma, comodo, comodissimo, comodissimo, poi c'aveva delle perpetue giovani, ecco, molti giovani, che avevano bisogno di essere confessate spesso, quindi un'altra parte sa. Era un uomo della CIA, secondo lei? No. Almeno della lotta al comunismo. Era la lotta al comunismo, lui era più che altro per far denaro. Però i soldi poi servivano anche per la lotta al comunismo, ma per fare il comunismo è stato sottoposto più che altro, Calvi, il Banco Ambrosiano, ma è vero che quando mi chiedono i giudici che cosa pensavo, dove erano andati i denari, io li andrei a cercare in Polonia, perché andavo in Polonia, perché mi ricordo una volta, dico questo, quando si mangiava la sera, ci siamo trovati lì alle Celsio e lo vedi molto giù, che cosa ha fatto, Dio Roberto, ti vedo giù, e dice io domani mattina devo pagare 80 milioni di dollari e se non le pago, d'altra parte vodo a Santissimo, lui lo chiamava Santissimo, diceva dai che o li faccio comprare un appezzamento di deserto oppure le dirò che cominciano a vendere tutti quei quadri preziosi, perché io non posso più pagare il famoso sole dal nostro. Ringrazio sempre Franco Fracassi per essere con me e naturalmente quello che abbiamo ascoltato ancora chiaramente crea un po' di scompiglio dentro di noi. Il Vaticano e tutte quante le sue figure che lo hanno rappresentato per lungo tempo. Sì, Marcinkus, di cui Parageli è il presidente dello IOR, insomma della banca vaticana, lo è stato per una vita, ha avuto un ruolo fondamentale in Vaticano, credo a Ratzinger, è stato Ratzinger a cercare di defenestrarlo, ma fino all'epoca lui è stato per 30 anni, non so manco quanto, è stato quello che gestiva le finanze vaticane e come fa capire Gelli quello che si preoccupava dei soci, era un banchiere, un pelo sopra lo stomaco alto così e sostanzialmente faceva qualsiasi forma di cosa non cattolica pur di arraffare soldi. La cosa impressionante che fa capire anche tutte quante queste, quanto il mondo sia grigio e quanto le cose siano connesse tra di loro è quando parla di Calvi. Cioè quando dice di Calvi, sì il Santissimo mi ha detto che io devo dargli i soldi, Calvi era disperato quando racconta Pesaro da Gelli, perché infatti è morto per questo motivo. Pippo Calò, cioè l'uomo che ha ucciso Calvi o che l'ha suicidato sotto il ponte dei Fratineri a Londra, l'ha ammazzato perché lui per pagare Vuetiwa, che doveva fare le sue operazioni in Polonia, ha preso i soldi della mafia, perché il Banca Ambrosiano, quindi una banca normalissima italiana, gestiva i soldi della mafia per conto anche degli americani. Quindi lui prende i soldi della mafia, la mafia diceva che ce li deve ridare, lui non è in grado di ridarli e lo impiccano molto semplicemente, insomma, e anche qui ritornano questi intrecci pazzeschi, Stato, mafia, terrorismo, Vaticano, Stati Uniti e America. E se mi consenti anche delle figure, come tu hai già fatto notare, per esempio durante la presentazione del libro Hitler 1945, quando parlavamo della famosissima Evita Peron, che è un po' considerata come una madonna, anche tu proprio la chiami così, stessa cosa vale per un Papa amatissimo, cioè Giovanni Paolo II. Esattamente, Giovanni Paolo II ha fatto delle cose di cui secondo me, scusate questo, se uso un termine un po' forte, dovrebbe vergognare. Giovanni Paolo II, pur di abbattere il comunismo, che uno magari ha ragione o torto, non voglio entrare in questo ambito, ma pur di abbattere il comunismo, si è accordato con la mafia, cioè ha accettato quella cosa lì, che pur di combattere il comunismo nel resto del mondo, quello che lui pensava fosse il comunismo, perché in alcuni casi erano semplicemente movimenti popolari, eccetera, ha appoggiato apertamente Pinochet, cioè l'uomo al fianco di Pinochet, mentre Pinochet massacrava le persone, ha appoggiato gli squadroni della morte in Brasile, in Amazzoni, in altri posti, perché andavano contro quei preti che aiutavano gli indios, perché non era, perché per lui erano comunisti, quei preti, e quindi era giusto massacrarli, o chi ha ucciso il vescovo Romero in El Salvador, eccetera, eccetera, ha fatto cose che un Papa non dovrebbe fare, poi il Papa è anche un capo di Stato, va bene, però insomma anche i capi di Stato non dovrebbero fare certe cose, secondo me, non dal di là del Papa, ma uno che è un Papa, insomma. Bene, grazie, ovviamente di averci regalato questi stralci dell'intervista a Licio Gelli, ripeto che naturalmente nel suo completo, invece l'intervista è visibile, nel pacchetto di libri, interviste, audiolibro, e un insieme di altre cose, perché naturalmente man mano poi veniamo scandagliandolo anche, no? Questo pacchetto insieme con te, ma naturalmente il tutto solo ed esclusivamente ricevibile attraverso l'autore qui presente, Franco Fracassi, e scrivendo alla mail francofracassi1 al numero chiocciolagmail.com guarda, ci siamo scritti talmente tante volte che l'ho memorizzato, capito? Grazie a Franco Fracassi per essere stato con me. Grazie a te. Ciao a tutti. Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su Davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.